Roma Anche lui, hanno organizzato una sorpresa per il figlio. All'uscita da scuola Nicco, che ha 8 anni, è salito in auto e sul sedile posteriore ha trovato un cucciolo di bulldog francese, Bruno. Incredulo il bambino che, commosso per il regalo ricevuto, ha iniziato a piangere le sue latime di gioia sono state riprese dalla mamma, che ha postato sul profilo Instagram il video con la didascalia quando fai la sorpresa Grazie a tutti